Domenica 17 aprile in programma un evento a favore del piccolo Federico Mezzina. Che cosa è stato organizzato? È organizzata una giornata in cui Royal Oak Ranch insieme a Federico apre le porte a tutti coloro che si vogliono avvicinare ai cavalli e alla natura. Tutto ricavato, che è offerta, andrà devoluto alla famiglia di Federico. Il tutto inizia nel mezzogiorno con un pranzo nelle strutture del casale e poi alle due e mezza abbiamo il battesimo della sella aperto a tutti i grandi e piccini dove tutti potranno avere l'emozione di montare a cavallo. Alle 17 è prevista una merenda offerta dagli sponsor e durante la merenda si avranno delle esibizioni equestre, degli allievi del Royal Oak Ranch. Sarà presente anche il piccolo Federico? Sarà presente tutta la giornata con noi, speriamo di averlo anche a cavallo e speriamo che sia una bella giornata per Federico con la natura e i cavalli. Volevo ringraziare tutti gli sponsor che sono intervenuti per poter svolgere questa manifestazione, tutti i genitori degli allievi del Royal Oak Ranch che hanno dato loro disponibilità e vorrevo ringraziare soprattutto la famiglia di Federico e Federico che ci hanno dato la possibilità di svolgere e fare e organizzare una giornata del genere.